Una firma per rinnovare l'accordo di collaborazione interistituzionale tra gli enti che ha consentito di investire risorse importanti e portare a termine progetti fondamentali per lo studio e la tutela del sito. La sala stampa Biagio Agnes dell'Università di Salerno ha ospitato l'evento che ha visto protagonista il rettore dell'Ateneo Enzo Loia e il direttore del Parco archeologico di Pestum nonché dei musei del Ministero della Cultura Massimo Sanna. Sono molto lieto di poterla riconfermare anche perché credo moltissimo nella collaborazione fra musei e università, è fondamentale e ovviamente da ogni attività vengono fuori straordinarie novità, le ultime anche sono le ricerche archeologiche che si stanno facendo in collaborazione e che hanno portato e stanno portando a risultati notevoli che riscrivono alcune pagine della storia di Pestum. Siamo molto contenti di questo rinnovo e rinnovare anche tutta l'intenzione e la determinazione dell'Università di Salerno a continuare a investire per la cultura e per la cultura soprattutto dei beni culturali. Nonostante le inevitabili difficoltà anche la scuola proprio di archeologia ha continuato a fare i suoi lavori. Per il direttore Osanna un segnale importante di ripartenza anche per il comparto culturale decisivo per l'economia della Campania e i numeri di Pompei, il più importante sito archeologico del mondo, lo testimoniano. Anche Pompei ha riaperto con numeri significativi, con una nuova gestione. Viaggiamo sui 4.000 persone al giorno che è una cifra significativa in questo momento.